Brendola, i vigili del fuoco hanno lottato per ore con le fiamme prima di domare l'incendio che ha devastato una casa abbandonata in via Meucci, in zona industriale. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei pompieri, il cui lavoro è stato più complicato del previsto. Da quanto emerge a bruciare, sarebbe stato del materiale accatastato all'interno dell'abitazione, dove non vive più nessuno da tempo. Dunque, per fortuna, non ci sono né feriti né intossicati. L'allarme è scattato quando alcuni abitanti della zona hanno notato una colonna di fumo alzarsi in cielo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.